Creare opportunità sociali e lavorative per persone con sindrome di Down a contatto col cavallo. Il settore cavalli ci dà la possibilità sia dell'ipoterapia sia dello sport con il cavallo e abbiamo già dei ragazzi che fanno lo sport con il cavallo, addirittura a volteggio e ci è venuta l'idea di formare dei tecnici di scuderia in modo sempre da inserirli nell'ambito lavorativo. Ecco che nasce il progetto Inclusione in Scuderia, un'iniziativa che va a braccetto con Up and Down promossa sempre dall'Associazione Sindrome di Down Onlus. L'obiettivo è quello di guidare i ragazzi che arrivano alla maggior età nell'inclusione lavorativa. Quest'estate è già stata fatta un'esperienza presso alcune sagre di paese dove si sono dedicati a offrire caffè e aperitivi agli avventori e quindi è nata l'idea di dire ma perché non ci dotiamo noi di un food truck nostro per poter andare nei vari feste sagre dove ci possono invitare e così dare un lavoro e un impegno ai nostri ragazzi che così si possono realizzare come un qualsiasi ragazzo diciamo non con la sindrome di Down. Una sinergia fra associazioni e istituzioni che a Fiera Cavalli accendono i riflettori sull'inclusione. Il cavallo fa tanto su diverse disabilità quindi devo dire veramente il cavallo è un terapeuta meraviglioso. Io sono convinta che una vita per essere dignitosa sicuramente necessiti del benessere e della salute di una dimensione abitativa naturalmente dignitosa sia che una persona vive in famiglia o in coabitazione e che sia liberamente scelta ma poi anche del lavoro è un percorso che gratifica, che realizza e questi ragazzi sono felicissimi di poterlo fare quindi io spero che prosegua sempre di più.